Un saluto amici del Centro Meteo Italiano, maltempo nei prossimi giorni sull'Italia ma con clima progressivamente meno freddo. Non mancheranno nevicate ancora a quote molto basse al nord ovest, vediamo allora nel dettaglio le previsioni meteo per sabato 3 marzo. Cieli nuvolosi al mattino su tutta l'Italia con piogge diffuse specie al nord, lungo il Tirreno e sulle isole maggiori. Neve localmente fino al piano su basso Piemonte ed Emilia oltre 200-500 metri sulle Alpi. Al pomeriggio ancora maltempo diffuso con piogge ed acquazioni sparsi localmente intensi su Liguria, Alta, Toscana, Campania e Basilicata. Neve a quote medio-bassi sulle Alpi. In serata e nottata ancora fenomeni soprattutto al nord-est e al centro-sud con neve sull'Apenino centro-settentrionale oltre 1000-1400 metri. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento al nord in lieve calo al centro-sud. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito e sulla nostra app medio. Un saluto da parte del centro medio italiano.